A scuola la maestra, bambini, per domani voglio una bella ricerca ben dettagliata sull'animale che abbiamo studiato oggi a scuola, la Iena Riddens. Voi sapete che la Iena Riddens è quell'animale che quando fa il verso sembra che rida il giorno dopo a scuola. Io, io maestra, dimmi Filippo, il mio babbo fa il veterinario, mi ha detto che la Iena Riddens si accoppia una volta all'anno. Bravo Filippo, questa è una cosa che non sapevamo, la mettiamo nella ricerca che abbiamo fatto ieri a scuola. Io, io maestra, dimmi Ettore, il mio babbo fa il dottore, mi ha detto che la Iena Riddens in caso di necessità e carestia, se non riesce a cacciare, mangia i suoi escrementi. Ottimo Ettore, perché questa è una cosa che non sapevamo, la mettiamo nella ricerca che abbiamo fatto ieri a scuola. Io, io maestra, io, io maestra, dimmi Mario, e mi baffa il contadino, lo sa, ma se la Iena Riddens fa la morna volta all'anno e mangia la popò, e non c'è mica più tanta rida. Grazie a tutti.